Buonasera da Simonetta Boho e da Sostiene Perera, Mala Sanità. Al Casinò delle Molinette domani sarà chiuso per due ore il reparto di riciclaggio intensivo di denaro sporco. Chiunque avesse intenzione di lavare il denaro può rivolgersi alla bella lavanderina che lava i fazzoletti per la nostra sanità. Previsioni del tempo. Buonasera. Fiocca. Buonasera.